Monti, andiamo! Eccoci quindi che va a riportare la sua... No, che meno male, grazie! Susanna, una macchina di traino per riportare Marco Magrelli ai box, siamo ormai pronti di nuovo per riavviare le manovre, adesso è un giorno, tocca il gravoso compito di cercare, di riconfermare il record italiano ufficioso appena ottenuto. Andrea Speciale non ha, avrà vita facile, ma se la metterà di sicuro tutta, non è certo uno che si tira indietro quando c'è la data del gas. Pronti, pronti per il via! Eccolo, Angelo Lanno, l'autopatto è un avversario comunque sempre pericoloso, quale è? E' un altro anno, non è molto bene. E' un altro anno, è molto molto bene, è fortissimo di nuovo, mille cavalli! E' 9 e 428, nuovo record italiano! Angelo Lanno, convinto di quello che sta vedendo, centra la partenza e un nuovo screzzo assoluto, record italiano, record italiano.